Ragazzi prima di cominciare questo video vi devo raccontare una cosa, ero un corriere oggi ed ero vicino a una ragazza, questa ragazza gli aveva sparito il portafoglio ed erano tutti sconvolti, no? E la ragazza mi è compresenta fare le domande, se avessi visto il portafoglio, io ho detto no, guardi, io non ho visto niente. Poi si è spostata, è andata a parlare con gli altri e ha iniziato a darmi la colpa, no? Cioè io nel 2020 devo sopportare queste cose, cioè era una cosa così, a me proprio non mi va, proprio so perché ero un unico di colore, cioè devo dire, ero un unico nero sulla corriela ed ero proprio vicino a lei quindi mi ha dato la colpa, cioè io sinceramente ho rubato il portafoglio perché mi piaceva, non perché ero nero, era bella questa ragazza, comunque scherzo, non ho preso niente, ho visto un video su TikTok ed era bella la cosa, volevo replicarlo nel mio video, comunque no che non dar mai la colpa a un nego, comunque ad accompagnarmi a questa prima parte dell'album, due panini con il burro di arachidi e Jimmy Taz con i suoi 18 pezzi, proprio 18 sono tosti, proprio mi vuole tenere impegnato, tutta la mia vita fa talmente schifo che, 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 che dovevano fare compagnia a sti, dai, chi, che, QVC9, che non so, quello che, quello che vi consiglio, ah, quello che vi consiglio, volume 9, album di Jimmy Taz, è uscito nel volume 9, 18 brani, visto che è lungo, cominciamo subito, la mia battuta a iniziare, l'ho già detto, quindi non serve altro, il primo pezzo, quello che vi consiglio. Ah, sì, dimenticavo, visto che sarà lungo l'album, guarda meno metà, il video. No capo. Ah, perché, come, perché tu come chiami la tua ragazza in italiano, fammi sapere il tuo commento, questa è la mia nuova. One take, ha detto. Penso che ci sia solo la base, già cominciamo bene, ragazzi, comunque è tardi, quindi non è la stessa ora di registrare il video, quindi, c'è, quindi non posso, le, le, le cagate se mi vengono, gli dico, sicuramente sono l'unica cosa che, l'unica cosa che posso dire, le cagate, mi fanno senza guardare, quindi, a me il primo pezzo mi è piaciuto, come mi piace il culo di Valentina Nappi, questa è la bella. Ah, noi siamo così. Lisho come l'olio. So che sono brutto, ma per me stesso sono bello. No, 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 siamo così. non siamo ancora così non siamo cambiati col tram ma siamo così beh non c'è due senza uno ma si dice non c'è uno senza due non c'è due senza tre non c'è due senza tre a me è piaciuto sicuramente il suo modo di cantare tutto con le lame piace un batto è proprio costolato di ascoltare i pezzi così quindi non dico e andiamo avanti mamma fit nitro beh questa me gusta non l'ho ascoltato ma me gusterà dai mi piace un bottle beat ma un bottle beat mi piace è pronto a portarti in alto vicino al sole dove va a casa se guardo le tue storie mi passano le ore vorrei tu fossi qui sai mamma i bianchi no quando li potevano uscire dicono ciao mamma e danno bacini con i genitori africani non funziona così solo chi si è adattato da mariano dino mi passano le ore più che una casa era un cazzo di squat quanto ci sfotevano quando potevano il mio disordine se guardo le tue storie mi passano le ore tu fossi qui bella questo pezzo bella questo pezzo chill c'è una storia dietro ma ancora non c'è un pezzo che non mi è piaciuto tutti i pezzi mi piacciono come il culo di Valentina Nappi dai mondo di fango questa cosa so di cosa parla non lo so dovevo dirla cos'era più bella perchè si è arrivata al punto del video quindi il profumo questa la tipica canzone d'amore che trovi in tutti gli album non so se ha ragione ma quello che dico io lo dico perchè è il mio canale quello che dici tu stai zitto se non ti faccia nale oggi faccio solo e non dico piango così ma non lo faccio scrivi a jimmy tights che voglio fare un beat con su questa base piangi in mano e non dico mai dove stai io bella questa base tra mesi vado a cercare un modo di fango beat jimmy tights mi piace un botto mi piace un botto mi piace un botto bella la canzone soprattutto flow cioè la tipica canzone che voglio ascoltare in un album così in una band fit fabi fibra mi sapete con uno stile old school però con la chitarra tutto sembra una cosa chill ah di volta prodotto da lui perchè gli ha detto che canta e suono su beat su mic io non so se fabi fibra ha finito il suo flow però da tutte le pezze che ho sentito di fabi fibra sembra di sentire gli stessi flow di fabi fibra non lo so forse è una cosa che io non capisco un cazzo però la verità si va detta va detta bella anche questa a parte l'altra fa di fabi fibra non mi ha non mi è piaciuta 5 piece jimmy tights 1 minuto 8 1 minuto 3 minuto 8 3 minuto 8 4 minuto 9 5 minuto 8 4 minuto 9 6 minuto 9 5 minutes Questo vuole far pitch, questo vuole far titolo. Ok, non potevo riparci solo perché no, non ho voglia di prendermi una sgridata. Forse il secondo pezzo che mi piace di più è che sono scolato un po' distratto, perché sentivo un rumorino di zanzarino. All right, fit e mischilla. Tutti i miei video che ho fatto che c'è glier, 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 ti giuro che... Perdo solamente a vita a capire come si dice il suo nome, quindi... E mischilla, gemmitaiz. Galera. Dura, durano pochi però. Ok, talk to a shit. Sì, perché ho fatto due pezzi così fighi, vicini? Da onde in poi quando faccio il mio video mi piace una barra di un pezzo che sto ascoltando. Faccio così, intanto lo tocca comprare altri, quindi bitch, no. Supporta il mio canale, link in descrizione, fai una donazione e regalarmi un profumo. Non posso fare pubblicità al prodotto che voglio io, ma non posso. Ah, la canzone che sento è dalle porte che si chiudono, invece è nella base che una cosa fa boom. Quando ascolto una canzone, se è lui oppure se è un suo featuring, cioè, tu soccoro tutta la canzone che è l'italiano, poi viene lui, io tutto il tempo che non aspetto, ascolto la sua, la sua strofa e non vedo ora che finisce, cioè, nel senso che bella flow tutto, però è come se parassi un'altra lingua. Sarebbe che non ci capisci con gassi. Ok ragazzi, finisco qua il primo pezzo perché buone volte gli altri pezzi che è pieno di featuring. Eh no, io devo andare domani che domani ho le lezioni, non è per quello, anche se domani sono sicuro che non intererò neanche un'ora di lezione, quindi domani è il mio giorno per riposarmi, ma anche perché, dopo se è più lunga, quando i miei video durano 5 minuti, la gente ne guarda 50 secondi, quindi figurati quando ne dura mezz'ora, a che mi caga, cioè a che mi caga, quindi tu cominci a cagare, cioè non cagare, nel senso che cominci a guardare i miei video, facciamo il primo passo da te, poi arriviamo agli altri. Quindi dai, per me è un pezzo spazio, per me, per adesso non ho trovato un pezzo che non mi è piaciuto, sapete che la mia sincerità è più grande del cazzo di rio quando ho così freddi, e quindi sono sincero, perché se sono nero devo essere sincero per farsi, non che nero sono, quindi se conosci un nero e non è sincero, non è nero, non è nero, vi lo giuro che non è nero quello.